Novelli alla ristampa e la riedizione di un volume che Novelli aveva pubblicato nel 1967. Ho lavorato con vari archivi, l'archivio Cunellis, con fondazioni archivi che si occupano di artisti storici, soprattutto legati all'ambiente italiano e romano in particolare negli anni 60 e 70. Questo è un po' il percorso di studio che ho fatto. Oggi vi presenterò, vi parlerò un po' di un artista che ha assunto uno pseudonimo maschile nel 1971. Il suo vero nome è Bianca Pucciarelli, più nota come Bianca Menna perché all'epoca molto spesso le donne venivano conosciute con il nome del marito. In questo caso il marito era Filiberto Menna, un noto critico d'arte, docente universitario. Nel 1971 Tommaso Binga decide di adottare questo pseudonimo maschile, uno pseudonimo che lei utilizza proprio per far capire come l'ingresso delle donne nel mondo dell'arte sia particolarmente difficile, quindi per denunciare, assumendo ironicamente questo pseudonimo, una situazione di disparità e di subalternità che la donna viveva, soprattutto in quella fase, ma anche oggi dati in realtà relativi alla presenza delle donne artiste e nel mercato dell'arte italiano è ancora molto lontana dai traguardi raggiunti dai colleghi maschi. Il nome a che cosa si riferisce? Tommaso è un riferimento a Filippo Tommaso Marinetti, che forse conoscete, poeta, illustre e padre del futurismo italiano. Però lei dice Tommaso senza una M, come se gli mancasse una costola, lei fa questo riferimento divertente alla costola con la quale è stato creato l'uomo, quindi Tommaso che diventa senza una M, senza una costola. Binga invece è un riferimento affettuoso a un suo zio che quando era più giovane, nell'infanzia, quando era bambina, la chiamava affettuosamente con un nome che ricorda questa sonorità binga. Vi mostro qualche immagine e poi dopo avervi inquadrato un po' il percorso di quest'artista e avervi fatto vedere alcune delle sue opere più celebri, vi parlerò un po' della situazione in cui versa il suo archivio, un archivio particolare, che come forse vi ha già introdotto Maria Concetta Petrollo, è un archivio che non comprende soltanto materiali grigi, non soltanto lettere, carteggi, libri, locandine, ma anche tutta la collezione delle opere, che in questo momento in realtà è ancora tutta tutta insieme. Ci sono varie sedi in cui Tommaso Binga conserva le sue opere e i documenti relativi a tutta la sua carriera, ma non c'è una cesura netta tra questi due spazi, anche proprio fisicamente queste due aree dell'archivio convivono insieme, quindi da una parte la collezione con tutte le sue opere e dall'altra i documenti. Provo a condividere lo schermo e vediamo se come prima riesco a... Riuscite a vedere? Sì. Bene. Benissimo, benissimo. Allora questa è un'opera particolare, come vedete si tratta di due fotografie, il titolo è Tommaso Binga e Biancamenna oggi sposi e quindi non oggi sposi, è un'opera che Tommaso Binga ha esposto nel 1977 in una piccola galleria di Roma che si chiamava Campodì. All'ingresso il pubblico che era invitato a partecipare a questo evento aveva ricevuto un cartoncino di invito come quelli classici che si ricevono durante in occasione delle nozze, in cui veniva appunto invitato a partecipare a questo evento. Nel momento in cui il pubblico si è trovato a entrare all'interno di questo spazio espositivo romano, trova tutta la galleria bianca, tranne queste due piccole fotografie con delle cornici molto barocchi, in stile barocco, in un angolo della galleria appesi al muro. E diciamo quindi un'opera che in qualche modo più che essere un oggetto tradizionale, cioè più che rientrare nelle categorie tradizionali di pittura, scultura, si colloca nel territorio più incerto della performance, perché l'opera, perché all'interno di questa mostra dove c'erano esposte queste due piccole fotografie, l'artista raccoglieva i doni che gli invitati a questo finto matrimonio le avevano portati in dono e venivano collocati mano a mano sulle pareti. Quindi questa mostra dovete immaginarla come una mostra che in qualche modo cresce su se stessa, che cresce grazie all'aiuto, alla collaborazione che gli spettatori invitati hanno. Che cosa regalano in quel momento a Tommaso Binga questi suoi ospiti? Una serie di telegrammi, una serie di lettere, una serie di piccoli oggetti simbolici, delle piccole pipe, delle uova. Molti hanno regalato delle uova colorate in riferimento a quest'idea della nascita e quindi il riferimento alla futura nascita di possibili bambini. Riguardo a questo poi vi racconterò un episodio che mi ha raccontato Bianca molto particolare. Comunque, che cosa sono queste foto? Da una parte vedete Bianca nel giorno del suo vero matrimonio, vestita con un abito tradizionale da sposa, con un bouquet di fiori. Dall'altra vedete sempre Bianca, ma in questo caso vestita da uomo, travestita da uomo, con accanto gli strumenti tipici legati al lavoro intellettuale, una macchina da scrivere. Le foto sono state realizzate tra l'altro da un fotografo importante oggi scomparso che si chiama Roberto Bossaglia, un fotografo romano. Non si tratta dunque di un'opera in senso stretto fotografica, cioè non è Tommaso Binga che realizza queste foto, ma ne recupera una dalla sua vita, dalla sua vita vera, vissuta, dal suo vero matrimonio avvenuto nel 59, e poi un'altra fatta fare appositamente in una sorta anche qui di performance, perché l'artista si è attravestita appositamente per farsi fotografare. Che cosa ci mostra questa foto? Ci mostra anzitutto una disparità di trattamento nel come si rappresentano i ruoli della donna e dell'uomo, come si rappresentavano soprattutto all'epoca. Quindi l'uomo vestito in maniera seria, l'aria compunta, e soprattutto questi strumenti legati alla sfera pubblica, a un'attività intellettuale. Mentre la donna è in posa romantica, con un'aria sognante, con una serie di simbologie collegate alla sfera emotiva, alla sfera del sentimento e anche all'irrazionalità. In questo caso quindi c'è da parte dell'artista Tommaso Binga una denuncia rispetto a quelli che sono appunto gli stereotipi con i quali il femminile e il maschile vengono normalmente spesso veicolati nella tradizione non soltanto pittorica, ma nella cultura visuale dell'Occidente. Per questa ragione cambia il termine da oggi sposi in oggi sposi, quindi andando anche ad accentuare il fatto che nel maschile venga sempre ricompreso anche il femminile. Quindi quello che può apparentemente sembrare un errore, che all'epoca fu visto come un errore, perché molte persone che ricevettero l'invito non si accorsero, anzitutto non si accorsero che si trattava di un matrimonio finto. Ci sono alcuni telegrammi molto divertenti, tra cui quello di Guttuso, di Renato Guttuso, ad esempio famoso pittore di origini siciliane, attivo a Roma, che faceva i complimenti a Filiberto Menna perché pensava che si fosse sposata la figlia. Diciamo molte persone avevano equivocato, non si erano rese conto di vivere una performance, di vivere in un'opera d'arte, di trovarsi al centro di un'opera d'arte, e molti non avevano fatto assolutamente caso al fatto che ci fosse sposa e declinato al femminile invece che al maschile. Questo da dire, da pensare sullo sfondo del fatto che appunto nel momento in cui ci si sposava le donne all'epoca spesse e volentieri prendevano il cognome dell'uomo. E quindi è, diciamo, da leggersi quest'opera in riferimento diretto a questa critica anche alla natura universale del linguaggio che però sussume all'interno di questo maschile il femminile. Quindi un femminile che viene visto anche e soprattutto a partire dal linguaggio come una perdita, una mancanza che può essere tranquillamente ricompreso in un universale maschile. A questa fase dell'arte di Tommaso Bing a partire questa sua serie che si chiama Alfabetiere Murale è una serie che lei realizza appunto nel 76 andando a comporre con il suo corpo nudo le lettere dell'alfabeto. Esistono vari esempi nelle prime avanguardie di opere, soprattutto di artisti uomini che utilizzano questo espediente. Nel caso specifico però anche qui Tommaso Bing ha una lettura di quest'opera legata alla volontà di recuperare lei dice l'errore, l'imperfetto, il fuori posto perché il corpo in generale sia delle donne che dell'uomo è qualcosa di legato profondamente alla soggettività è unico, non è astratto come il linguaggio e lei vuole contrapporre appunto questa astrazione del linguaggio, dell'alfabeto la vuole riportare a questa imperfezione soprattutto a questa individualità del corpo fisico. Usa, se vedete, diciamo anche un richiamo a quello che è l'abbacedario la modalità con cui si apprende fin dall'infanzia la scrittura e quindi colloca queste immagini anche in una dimensione legata alle memorie d'infanzia. E' un'opera realizzata fotograficamente anche in questo caso grazie all'aiuto di una sua amica, compagna sodale chiamata Verita Moncelles che l'ha aiutata nel non facilissimo compito di essere fotografata in queste pose in un momento in cui appunto non si usava Photoshop è divertente, mi raccontava Tommaso Binga che in alcuni casi aveva agito direttamente sulle fotografie tagliando con delle forbici delle parti magari che non le insomma diciamo anche delle parti anatomiche che non voleva che venissero inquadrate. Sempre in questi anni vedete c'è una differenza si trattava in questo caso di due fotografie qui di una sequenza con tutte le lettere dell'alfabete è un'opera che oggi è custodita e conservata al Museo Madre di Napoli e qui un altro oggetto che non si può più chiamare scultura ma è più che altro un ready made un oggetto bello e pronto già fatto è uno strigatoio non so se qualcuno di voi sa cosa sia uno strigatoio non è un oggetto che si usa più anche all'epoca di Binga anche nel 74 in realtà era un oggetto che la stessa Binga non aveva mai utilizzato le donne lo utilizzavano per lavare i panni spesso al fiume, alla fontana comunque fuori casa ed è un oggetto che ha un alto valore simbolico perché da una parte ci racconta il lavoro delle donne un lavoro che è sempre esistito e non è assolutamente come spesso si pensa legato semplicemente al Novecento un lavoro anche al di fuori della casa non soltanto un lavoro domestico in questo caso però l'oggetto si lega più al discorso domestico ma non è visto solo da Binga come un oggetto di oppressione va pensato anche in termini di relazione con le altre donne perché nel momento in cui si andava a lavare gli indumenti eccetera le donne avevano la possibilità di uscire di casa di incontrarsi di scambiare pensieri, parole diciamo di uscire da quella dimensione privata che tradizionalmente è assegnata al femminile vedete queste lettere queste scritte si tratta di una scrittura che Binga chiama desemantizzata è una scrittura illegibile nasce in realtà qualche anno prima nel 72 nel 71 con i primi polistirolo che erano delle sculture che Bianca realizza a partire appunto da questo materiale il polistirolo erano delle scatole da imballaggio che l'artista riempie con immagini figure molto spesso tratte dalla reclama e molto spesso molto critiche rispetto all'immagine della donna diffusa dai mass media questo è un lavoro appunto sulla incomunicabilità della scrittura una scrittura che si fa segno che diventa disegno che diventa indecifrabile che però raccoglie nel modo in cui l'ha intesa Tommaso Binga i pensieri in qualche modo anche i silenzi che le donne hanno diciamo anche alle quali sono state costrette con questa particolare grafia Tommaso Binga nel 76 realizza un'installazione ambientale anche qui vedete si tratta di un'opera particolare che eccede la dimensione del quadro che eccede la dimensione della scultura che si fa anche in questo caso pratica performativa quindi una pratica che vive nella contingenza del momento che cosa fa Tommaso Binga in un quartiere della Roma Bene a Parioli a casa Malangone tappezza tutta la casa tutto l'appartamento con questa particolare carta da parati che lei chiama però carta da parato non è un refuso all'interno cioè in tutto questo ambiente vi ho portato delle foto che appartengono a dei contesti diversi quelle in bianco e nero sono quelle che documentano l'azione all'epoca in cui Bianca indossa un abito realizzato da lei ricoperto con gli stessi segni grafici con questa scrittura desemantizzata perché durante l'opening durante l'inaugurazione di questa mostra evento Bianca inizia a recitare una poesia in cui anche qui torna a parlare delle privazioni dell'oppressione che la donna subisce questa idea della carta da parati si riferisce a un'usanza che Tommaso Binga aveva sperimentato quando era giovane che non appartiene più neanche alla mia generazione e sicuramente non alla vostra in cui le donne venivano diciamo nelle feste tradizionalmente i ragazzi invitavano a ballare le ragazze considerate più avvenenti più piacevoli dal punto di vista estetico al loro giudizio e le donne le ragazze considerate meno belle venivano diciamo lasciate attaccate al muro a far appunto a far da carta da parati cioè a non sole isolate e impotenti in qualche modo quindi con questa passività dato che era l'uomo che doveva fare il primo passo e quindi è questa memoria d'infanzia questo vissuto che si trasforma e entra a far parte del suo lavoro artistico qui come vi dicevo vi ho portato tre foto che appartengono a tre momenti diversi anche a tre modalità espositive diverse la prima è quella diciamo originaria scattata durante sono le fotografie scattate durante l'azione vera dopodiché vi ho portato altre due immagini una legata a una mostra alla galleria di Milano di Rossana Ciocca in cui è stato mostrato l'abito insieme a un rotolo di carta da parati perché l'artista conserva ancora nel suo studio una serie di rotoli originali di questa carta da parati e anche uno dei tre abiti che all'epoca l'artista ha confezionato e anche la borsetta appunto dei tre abiti perché questa performance è stata svolta in più occasioni negli anni 70 in più luoghi in questa casa che vi dicevo a Parioli ma anche poi a Riolo Terme in una mostra collettiva e anche nel Museo d'Arte Moderna di Bologna e per ogni occasione l'artista ha creato un diverso vestito legato a diciamo che andasse in sintonia che fosse uguale alla carta da parati alla diversa carta da parati che aveva scelto per ogni occasione nel suo studio sono ancora conservati i rotoli originali alcuni dei rotoli originali che non sono stati utilizzati per le azioni dovete capire che naturalmente una volta che la mostra finiva questi rotoli andavano persi non è che venivano staccati dalle pareti o conservati in qualche modo sono opere nate e pensate in realtà per in quel caso per essere distrutte cioè l'artista non aveva un'idea di conservazione di questi materiali l'unica cosa che ha conservato oltre ad alcuni ritagli incorniciati che sono in questo senso più simili a dei quadri sono gli abiti di questi se ne conserva soltanto uno invece l'ultima immagine questa installazione è legata a una mostra recente tenutasi tre anni fa o due anni fa alla Mimosa House un luogo una fondazione di un centro espositivo a Londra in cui è stata ricreata una carta da parati nuova con l'autorizzazione naturalmente di Tommaso Binga si tratta quindi di un'operazione di reenactment di un'opera del passato però con delle modifiche sostanziali ecco che dal mio punto di vista che ho diciamo un approccio una prospettiva più storicista forse più filologica mi lasciano anche qualche perplessità perché ad esempio mentre trovo molto interessante il fatto che abbiano utilizzato una sedia a dondolo come era stato fatto dall'artista nel 77 a Riolo Terme trovo quantomeno diciamo sorprendente il fatto che all'interno di questa installazione sia stata esposta l'opera che avevamo vista in precedenza questa Tommaso Binga oggi e Bianca Menna oggi spose la vedete qui riprodotta trovo che sia un'operazione particolarmente diciamo molto libera di una interpretazione libera che però appunto essendo l'artista in vita è sicuramente rispetta la sua volontà ma sicuramente invece non rispetta quella che era la filologia di queste performance perché va a sovrapporre quelle che sono due opere diverse nate in contesti diversi e con diciamo anche dei significati abbastanza diversi per quanto riguarda ciò che si trova nell'archivio e nello studio di Tommaso Binga noi abbiamo questa situazione dal punto di vista logistico i materiali e le opere si trovano collocati e conservati in vari posti una parte sostanziale è ancora nella casa che Bianca ha condiviso per tanti anni con Filiberto Menna e che funge anche da suo studio è una casa molto grande che accoglie una parte della collezione dei dipinti comprati o acquisiti attraverso doni da Filiberto Menna nel suo percorso di critico d'arte e insieme molte delle opere di Tommaso Binga e tanti dei materiali dei documenti relativi al suo lavoro tra questi documenti c'è una grande disommogeneità nel senso si trovano varie casistiche e naturalmente nello standard una bibliografia legata al suo lavoro bisogna tener conto di queste differenze questo che vi mostra ad esempio Tommaso Binga e non uscire di casa è un libro d'artista è un libro d'artista pubblicato nel 77 con la nuova foglia editore in cui vengono raccolte le fotografie che l'artista aveva realizzato prima dell'installazione diciamo a casa Malangone quindi le fotografie in cui lei ha incolla da sola incolla sulle pareti di questa casa la carta da parati sia tutta una serie di particolari fotografici di ingrandimenti fotografici relativi all'installazione e alla performance all'interno di questo archivio troviamo anche una serie di pubblicazioni che normalmente si trovano nei diciamo questo è il caso di Biancamenna ma è un caso generale diciamo che si trovano in tutti gli archivi di artisti visivi in questo caso ci sono i pieghevoli delle mostre personali cataloghi pieghevoli non sempre all'epoca venivano pubblicati ma diciamo in alcune occasioni in mostre personali particolarmente rilevanti rimane la documentazione attraverso questi piccoli cataloghi questi pieghevoli o brassiurche che venivano pubblicate all'epoca troviamo naturalmente i cataloghi delle mostre collettive troviamo tutta una serie di cataloghi di mostre collettive appartenenti dall'inizio del suo percorso espositivo dal 71 fino a oggi si tratta di una mole di volumi veramente impressionanti qui ve ne ho portati due in particolare uno pubblicato nel 77 e uno più recente di una mostra che ho curato nel 2019 Magma è stata una mostra importante per l'arte degli anni 70 perché è una delle primissime mostre dedicate interamente cioè degli anni 70 dedicate interamente all'arte delle donne solamente delle donne curata da Romana Loda che è una è stata una critica d'arte ma anche una gallerista bresciana scomparsa dieci anni fa che ha sostenuto soprattutto negli anni 70 un nutrito numero di artiste tra cui non soltanto Bianca Menna ma anche Mirella Bentivoglio Giuseppe Fioroni e tante altre anche molte internazionali di là invece un catalogo più recente che di una mostra appunto che dicevo ho curato due anni fa a Frigoriferi Milanesi in cui il lavoro di Bianca Menna era inserito all'interno di una mostra collettiva con oltre 100 artiste attive nel decennio tra le altre cose nell'archivio di Bianca viene conservata tutta una fitta corrispondenza con Romana Loda con questa curatrice non vi ho portato a vedere non vi mostrerò delle lettere ma ecco tenete presente che numerosi faldoni divisi per decenni così l'artista li ha divisi e li ha suddivisi all'interno del suo archivio conservano una fitta corrispondenza con galleristi critici critiche d'arte artisti e anche ovviamente familiari non c'è una diciamo la divisione segue un ordine cronologico naturalmente tra i materiali che l'artista conserva anche qui suddivisi in faldoni differenziati ci sono gli articoli rivista anche in questo caso Bianca predilige un ordine cronologico a una serie di faldoni che raccolgono diciamo dal 71 al 74 dal 74 al 78 diciamo due faldoni circa per ogni decennio in cui vengono raccolti gli articoli in rivista che possono essere sia articoli legati alla sua attività artistica diciamo legati alle mostre personali sia articoli legati alle mostre collettive o in alcuni casi anche articoli in cui vengono pubblicate le sue interviste nel caso delle monografie appunto abbiamo una serie di libri come in questo caso questa monografia di Simonetta Lux e Maria Francesca Zeuli che in realtà nasce anche questa in un'occasione di una mostra al Museo Laboratorio della Sapienza però diciamo rispetto non è semplicemente un catalogo di una mostra ma si può considerare a pieno diritto una monografia perché ha una raccolta di saggi di diversi autori raccoglie moltissime delle opere che è sicuramente il lavoro più completo fino ad oggi legato al lavoro di Tommaso Binga raccoglie per serie tutti i lavori dal 71 fino all'inizio degli anni 2000 come vi dicevo un'altra parte un'altra sezione riguarda gli scritti specifici realizzati pubblicati dall'artista negli anni dal 71 ad oggi e gli scritti e le interviste è stato pubblicato da poco anche cioè da poco in realtà sono passati almeno 5-6 anni un'antologia dedicata agli scritti di Bianca curata da scusate mi sta è una docente importantissima di museologia scusate che ho un non mi viene il nome ma sicuramente mi verrà perché è una docente in realtà molto famosa e importantissima tra le carte tra i documenti che Bianca conserva ovviamente ci sono le locandine delle mostre le locandine di mostre locandine anche le relative a Torca eventi che lei ha nei quali è stata coinvolta insieme a questo materiale ci sono anche tutti i materiali dedicati al lavatoio contumaciale il lavatoio contumaciale è uno spazio tuttora attivo a Piazza Perindelbaga aperto insieme al marito nel 1974 che è nato con lo scopo di creare uno spazio che fosse alternativo ai circuiti ufficiali dei musei e anche quelli diciamo legati al commercio quindi alle gallerie d'arte per poter dare spazio e voce a tutta una serie di attività culturali che non fossero semplicemente delle mostre ma anche appunto dei dibattiti dei talk non soltanto in relazione all'arte ma alla cultura più in generale e anche a dei temi legati più all'attualità alla politica e ad altri ambiti disciplinari rispetto all'arte questo spazio che adesso è diretto ancora da Tommaso Bing è molto particolare perché si chiama lavatoio contumaciale si chiama lavatoio contumaciale perché era un posto dove venivano agli inizi degli anni venti ancora quando diciamo l'epoca in cui risale la costruzione di questo palazzo venivano lavati i panni delle persone infette e questa idea di lavatoio contumaciale quindi questa idea di lavare i panni infetti per Bianca fu molto quando andò ad acquistare il locale fu diciamo illuminante in qualche modo perché in qualche modo era quella l'idea di voler rinnovare rigenerare delle idee stantie attraverso questo luogo e soprattutto attraverso gli eventi che questo luogo ha ospitato dovete pensare che si tratta di un'attività di quasi che è proseguita per quasi 50 anni e che quindi ha una ricca documentazione che devo dire Bianca conserva con cura naturalmente non soltanto vengono conservati ciclostile inviti lettere che si è scambiata con gli artisti invitati o con le varie persone invitate ospitate dal lavatoio contumaciale ma anche in alcuni casi un ricco apparato di documentazione fotografica che documenta i vari eventi legati a questo spazio negli anni Bianca ha anche pubblicato una serie di piccoli libri che anche lì per decenni seguivano e indicavano una sorta di elenco di tutte le persone coinvolte tutti gli eventi promossi e di tutte le persone coinvolte all'interno del lavatoio contumaciale qui vi faccio vedere una serie di fotografie di allestimenti di mostre per farvi vedere anche le differenze tipologiche delle opere che Bianca ha realizzato negli anni e quindi che tipi di opere si trovano custoditi e nello studio dell'artista e in un altro spazio a Monti di Pietralata che è deputato all'archivio di Bianca Menna e Tommaso e Filiberto Menna in cui ad esempio sono collocate tutta la serie di polistirolo queste opere di cui vi parlavo all'inizio che vengono nella maggior parte dei casi conservate in questo luogo qui in basso vi mostro anche un allestimento creato nel 2019 immaginato pensato concepito da Tommaso Binga nel 2019 per la sfilata di Christian Dior a Parigi anche qui si tratta di un allestimento una sorta di scenografia pensata ad hoc per quell'evento ma dovete pensare che queste lettere che sono ad altezza naturale cioè nel senso sono alte 1,61 cm esattamente come Bianca poi sono state diciamo come dire salvate recuperate da questo setup da questa installazione realizzata ad hoc per le sfilate parigine di Christian Dior e oggi vivono come sculture autonome e quindi anche occupando uno spazio come potete immaginare notevole e sono anche in questo caso una sorta di rielaborazione dell'alfabetiere murale che lei aveva realizzato nel 76 in questo caso il titolo della serie è Alfabeto monumentale proprio perché l'artista gioca con questa idea di monumentalità dovuta alla grandiosità di queste lettere che si sono espanse dal punto di vista della dimensione e anche per riflettere sulla mancanza di monumenti legati al femminile perché diciamo rispetto all'idea di eroicità di forza che il monumento sempre evoca e spesso è dedicato all'uomo per Bianca l'idea di realizzare un monumento che fosse invece dedicato al femminile aveva una sua importanza interrompo un attimo la condivisione eccomi vi ho presentato un po' quelli che sono diciamo tutti i materiali che diciamo le varie le tipologie di documenti e opere che l'artista conserva questo perché perché in vista di un catalogo generale che l'artista intende realizzare un catalogo generale immagino lo sappiate ma comunque si tratta di un volume che raccoglie le opere dell'artista in maniera più completa possibile e seguendo dei criteri che possono essere anche molto diversi a seconda di chi decide di chi cura questo volume nel caso di Tommaso Binga sarebbe diciamo auspicabile un volume che raccogliesse almeno tutta la parte legata a opere non multiple diciamo e non grafiche in molti casi gli artisti decidono a seconda anche della quantità di opere che hanno prodotto di pubblicare cataloghi generali o in più volumi quindi seguendo le diverse scansioni temporali e cronologiche talvolta invece realizzando cataloghi generali legati all'attività grafica ai disegni dividendo diciamo quindi a seconda del genere artistico di riferimento e al materiale al supporto anche di riferimento e che cosa serve in un catalogo generale generalmente come sono fatti hanno un testo introduttivo o più testi introduttivi che rispecchiano un po' in qualche modo le varie visioni le varie prospettive degli autori che li scrivono e poi hanno sono seguiti da un apparato molto importante che riproduce le opere appunto come dicevo più completo possibile quindi in cui gli archivi vanno cercano di anche andare a recuperare quelle che sono le opere entrate nel mercato quindi non più di proprietà dell'artista o dell'archivio cioè della fondazione o della fondazione e documentarle fotograficamente accompagnandole però da dati precisi che non sono soltanto i dati relativi alla bibliografia dell'artista o all'elenco delle esposizioni personali e collettive o ai libri d'artista pubblicati appunto dall'autore ma si tratta anche di andare a ricostruire dove le opere sono state esposte come potete capire questo è un lavoro estremamente laborioso estremamente anche lungo e non sempre facile da ottenere perché anzitutto in molti casi i le brochure che abbiamo visto prima le locandine che abbiamo visto prima pubblicate in occasione delle varie mostre non riportano i titoli delle opere in alcuni casi li riportano solo incompleti in altri casi come un artista come Cunellis troveremo non lo so sette opere tutte senza titolo e con dimensioni analoghe per cui ricostruire e capire esattamente nelle varie mostre nelle decine e decine di mostre che un artista realizza durante la sua carriera capire esattamente quali opere precise ci fossero non è sempre così semplice bisogna integrare vari dati anzitutto spesso partendo più possibile dalle fotografie dalle fotografie che documentano l'allestimento di queste mostre e quindi recuperando da lì i dati e integrandoli con la documentazione disponibile che è quella relativa alla rassegna stampa quindi a tutti gli articoli che i quotidiani o le riviste specialistiche hanno pubblicato all'epoca in relazione a quella mostra si tratta come vi dicevo di un lavoro particolarmente lungo e non sempre anche talvolta incompleto per mancanza di informazioni esaurienti ma che gli archivi dei vari artisti cercano di portare avanti il più possibile e che impegna veramente in maniera molto forte queste fondazioni non soltanto quella di Bianca ma in generale di tanti eredi anche quando soprattutto l'artista non è più in vita diventa ancora più complesso recuperare tutta una serie di informazioni per questa ragione anche lo scorso anno in un progetto della Sapienza che si intitola Voci sull'arte che è un progetto di storia orale dedicato all'arte contemporanea in un'intervista che ho raccolto una video intervista che ho raccolto con Bianca ho cercato di recuperare più possibili informazioni specifiche sulle mostre su che cosa ha esposto nelle singole mostre perché appunto sono informazioni che l'artista talvolta l'artista stesso non ricorda più perché sono passati 50 anni in altri casi è difficile appunto recuperare da questa documentazione che è spesso lacunosa in questo senso e quindi diciamo questo è un po' il lavoro che sta impegnando Bianca di recupero di documentazione più possibile precisa in relazione a ogni singola opera da lei realizzata e qui concluderei non so se ci sono domande curiosità relative un po' a quest'artista che appunto domani festeggerà i suoi 90 anni con un evento facebook di una mezz'oretta in cui diciamo saluterà i suoi come dire le persone care e anche il suo pubblico che la segue grazie grazie Raffaella se ragazzi avete qualcosa da chiedere penso che vi siate resi conto di quale complessità possa avere un archivio di un di un artista perché avete visto in tutte le sue forme oggetti locandine immagini non so se volete chiedere qualcosa era un artista che conoscevate qualcuno di voi la conosceva no vi ha incuriosito in qualche modo o sentite un lavoro un po' un po' lontano dalle vostre corde dalle vostre sì un po' incuriosito un po' incuriosito sì perché alla fine si tratta di un artista donna come una delle poche che ci sono che ci sono state che sono state considerate più che altro cioè mi ha colpito molto il fatto che dei suoi lavori sulla femminilità ecco sì credo che sia una delle cose delle diciamo delle questioni che sicuramente hanno contribuito a a far crescere l'apprezzamento generale anche internazionale per Bianca ecco perché se fino a qualche anno fa la sua fama era più confinata all'Italia negli ultimi anni ha avuto anche una serie di riconoscimenti internazionali molto forti appunto anche il fatto solo che una grande azienda con Christian Dior famosa in tutto il mondo l'abbia scelta come artista per una sua sfilata e per altre attività che hanno fatto sinceramente è comunque un bel riconoscimento anche una mostra a Mimosaus è un altro diciamo grande riconoscimento e poi le sue opere una sua opera è entrata nella collezione austriaca della Samlou Fairbund che è una delle più grandi collezioni sicuramente la più grande in Europa dedicata all'arte delle donne dagli anni 70 a oggi e fino a dieci anni fa in quella collezione c'era un'unica artista italiana che era Cattila Rocca un'artista amica di Tommaso Binga morta però prematuramente nel 76 attiva nel campo della poesia visiva e legata a un gruppo toscano che si chiamava gruppo 70 che lavorava nell'orbita della poesia visiva ed era l'unica artista italiana in questa grande collezione artista che oggi è conservata al Museum of Modern Art di New York al MoMA in collezione permanente ed esposta cioè non nei magazzini ecco se andate la trovate nel nuovo allestimento Tommaso Binga appunto dieci anni fa non c'era in questa collezione altriaca e invece un anno e mezzo fa è stata acquisita una sua opera è stata comprata una sua opera in questa collezione ed è una collezione questa che non nasce diciamo è una collezione privata di un ente privato in realtà che nasce per essere esposta per viaggiare non ha una sede fisica non c'è una sede in cui in maniera permanente vengano esposte questa collezione ma mano a mano si appoggia ad altre istituzioni in vari paesi nel 2010 appunto si era diciamo aveva collaborato con la Galleria Nazionale d'Arte Moderne ed era stata fatta una mostra bellissima tra l'altro però dove appunto le artiste italiane non c'erano quasi c'era solo una e invece negli ultimi anni oltre alle opere di Bianca sono state acquisite anche altre artiste italiane penso a Marcella Campagnano insomma diciamo c'è negli ultimi anni sicuramente una tensione crescente da parte del collezionismo da parte dei musei rispetto a quello che è un territorio di arte delle donne che sicuramente nei secoli è stato lasciato più ai margini della storiografia diciamo che questo processo di riscoperta avviene già dagli anni 70 soprattutto in ambito americano e inglese e che però adesso interessa in maniera consistente anche l'Italia non so se ci sono altre domande curiosità nessuna io volevo chiedere sì sì volevo sapere se ci fosse qualche magari artista in particolare a cui si rifaceva o a cui si è ispirata oppure se era diciamo proprio uno stile originale suo tra virgolette allora sicuramente ecco Catti La Rocca è un artista con la quale lei era in dialogo e si vede bene in quelle scritture desemantizzate perché anche Catti La Rocca in quegli stessi anni aveva prodotto una serie di lavori che si chiamavano Riduzioni qual era il nome? Catti La Rocca si chiamava in realtà Gaetana La Rocca però ha scelto il nome Catti che suonava meglio ed è un artista molto interessante attiva in quegli anni attiva in realtà prima di Bianca aveva iniziato a esporre nel 66 e proprio negli anni 70 inizia questa serie di riduzioni in cui prende un'immagine che può essere un'immagine una fotografia antica una veduta di Firenze perché lei lavorava a Firenze o immagini legate alla immagini comunque sempre legate alla memoria all'antichità cioè l'antichità all'antico nel senso di sculture il Davide di Michelangelo o ad esempio un'altra opera è legata invece anche a delle situazioni più contemporanee però sono solo un ciclo molto ristretto di opere legate a film famosi come Via col Vento prendeva queste immagini e poi mano a mano tracciava dei contorni in maniera sempre più scarnificata e diventavano anche qui si passava da immagine a grafia a disegno in maniera veramente molto simile a quanto faceva Bianca con queste lettere con questa scrittura desimantizzata un'altra artista che lavorava in maniera affine era Simona Veller che anche lei negli anni 70 73 74 ha dato vita a queste scritture illegibili e sono diversi gli artisti in realtà che lavoravano in questo campo artiste e artisti quindi sì diciamo sono soprattutto questi i riferimenti ed è diciamo anche questa attività performativa questa installazione eccetera è tipica dell'arte degli anni 60 e 70 ecco una dimensione che si trova un po' in tutta quella che viene definita la neo-avanguardia sperimentale diciamo è un'arte che poi è molto importante anche per l'oggi perché se voi entrate in un museo vedete che molte delle opere soprattutto più contemporanee sono legate non più alla dimensione solamente della tela dell'olio su tela o del dipinto tradizionale ma hanno questa presenza legata all'oggettualità e al rapporto con l'ambiente e l'architettura è lo spazio quello è un fenomeno diciamo più cioè che non investe solamente non tocca non riguarda solo Bianca qualche curiosità qualche altra curiosità non vi è incuriosito questa storia del lavatoio mi hai anticipato scelta infatti stavo stavo pensando sempre quando finirà questo covid che si potrebbe fare una bella performance con i ragazzi hanno detto che i draghi forse ci faranno mettere doppia mascherina forse sì al lavatoio contumaciale io invece volevo chiedere alla professoressa Perna siccome hai parlato naturalmente dell'attività come artista visiva di Bianca però c'è anche la sua parte di poeta sonoro anche per per introdurre appunto qui la multimedialità anche la la capacità multimediale di questa di quest'artista e di quanto poi la parola sia importante e naturalmente l'immagine è sempre più immediata soprattutto questa sua questo suo genere no? di 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 nuova visione insomma no no giustamente Bianca è stata una e si definisce anzitutto anche una performance sonora performance sonora e quasi sempre devo dire anche nell'occasione della mostra da Dior è riuscita a a recitare alcune delle sue poesie declamate in maniera del tutto particolare e direi a vedere dei video perché è veramente molto meglio la visione diretta di questi video che si trova nel rete piuttosto che la descrizione perché è una descrizione la mia che sicuramente non rende la capacità vocale l'interpretazione che questa donna riesce a dare ai testi a queste sue poesie poesie che lei scrive anche lì molto spesso come la poesia carta da parato che leggeva all'interno della sua performance sempre molto divertente ironiche ma anche di denuncia con questo spirito molto ed è veramente diciamo questo un aspetto che lei veramente vive in continuità con le opere più strettamente visive perché in ogni mostra in ogni inaugurazione Bianca quando può recita una performance sonora da Maurizio Costanzo questo è un altro episodio abbastanza divertente negli anni 90 Bianca io ho visto delle trasmissioni delle puntate in cui Bianca ha recitato in questa trasmissione di Maurizio Costanzo in televisione dove questo genere di performance di azioni non poteva essere compreso perché comunque era qualcosa di estremamente sperimentale in una condizione in una situazione dove il pubblico si aspettava tutt'altro per cui anche nella reazione c'è una famosa poesia di Bianca che si dice io non ve la do adesso quindi in questo modo gergale di dire e il pubblico gli rispondeva e chi la vuole e c'è questa interazione abbastanza diciamo divertente che è ovviamente memore delle serate futuriste e dadaiste perché sapete nella prima avanguardia soprattutto nel futurismo e anche nel dadaismo c'era questa idea di epatele di scandalizzare di provocare attraverso delle performance e dei recitals sonori e in questo Bianca sicuramente è un'erede importantissima e ha lavorato comunque a stretto contatto anche con altri artisti che hanno lavorato su questo aspetto ad esempio ha lavorato spesso con Lamberto Pignotti che è un artista importante anche lui adesso non so se ha 92 93 anni no di più molti di più siamo anche lì 98 e del 24 e del 24 e del 24 e del 22 io sono certa che è del 22 perché c'ha lo controllo perché con Lamberto l'anno scorso ecco insieme a una delle video interviste a Bianca ho fatto questa a Lamberto che è un'altra artista in cui lavoro da più di 10 anni che mi ha anche dato un soprannome un po' cattivello perché mi chiama invece che la curatrice la traspuratrice perché ogni tanto non ci siamo sentiti per un po' e quindi no Lamberto è un altro artista molto importante amico ovviamente di Bianca e che vi vi consiglio di guardare anche lui c'è trovate tantissimo materiale sul a 95 anni del 26 ah 26 26 è un artista anche lui molto molto in gamba devo dire ancora adesso ancora adesso assolutamente ancora adesso sì sì Lamberto Pignotti sì sì Pignottello come no sì sì mi ricordo una volta un'altra cosa che mi raccontava il giorno prima che io mi sposassi ero con lui a far presentare un libro al maxi e lui mi chiese che cosa fai domani e gli risposto mi sposo e lui pensava che stessi scherzando e da quel momento un'altra dei tormentoni con me è stata proprio questa cosa che lui riusciva a concepire come una persona stesse il giorno prima a presentare un libro e il giorno dopo si andasse a sposare però forse perché aveva un'idea un po' magari di un matrimonio più grandioso invece è stata una cosa semplice per cui non mi ricordo questa cosa che ogni tanto si ricorda e mi prende in giro su questo è un artista molto veramente che aveva un'esperienza poi anche lui lunghissima e profondissima una conoscenza del mondo dell'arte insostituibile sono comunque degli archivi viventi veramente perché possono raccontarti storie importantissime ecco a quest'idea del progetto di storia reale io credo sia un progetto importante che andrebbe esteso perché è veramente il rapporto con l'artista è qualcosa di insostituibile allora se non avete altre domande io credo Maria che possiamo chiudere che dici va bene va bene e allora io ringrazio tanto la professoressa Raffaella Perna con la quale spero di sentirci presto e per quanto riguarda i ragazzi credo che il prossimo appuntamento sia martedì vero? sì è martedì dopo voi avete tutti i link quindi vi basterà cercare il prossimo link e per partecipare io vi ringrazio il horario per amma sia leggermente diverso perché martedì è alle 3 è stato spostato alle 3 perché la docente non poteva alle 17 per problemi di connessione eccetta però io penso che i ragazzi molti escono l'ora da scuola qualcuno esce anche alle 4 se mi sa che io esco alle 3 mezza sarà un po' impossibile infatti alle 3 mezza andrebbe meglio cercare no perché alcuni escono proprio fisicamente alle 15 e 30 da scuola sempre per questo fatto dell'orario degli ingressi allora come possiamo fare per sei siccome è un problema di connessione da casa è capito lezioni che poi è molto bella perché è per la nazionale centrale di Roma infatti è obbligata a farlo dalla biblioteca è certo quindi alle 5 non può farlo perché è ovvio che andrebbe via non so che dirti intanto io chiedo un po' l'orario di uscita delle varie classi Margherita voi il martedì a che ora è uscita? no noi il martedì all'una e mezza però cioè non so se alle 3 vabbè lo so voglio tornare a casa e poi vabbè alle 3 è un po' complicato per tutti credo non lo so Cetta non si può fare in nessun altro modo lei purtroppo ha la connessione a casa che non le va posso provare a risentirla però a suo connessione non andava per cui ha deciso di farlo dalla biblioteca non riesce posso risentirla se avessi risolto i suoi problemi ma se non è difficile ho capito e vabbè vedremo insomma perché non ti assicuro la partecipazione di tutti il martedì Allora lei deve andare via dalla biblioteca mi ha detto si è voluta tenere larga ma lei deve andare via dalla biblioteca alle 5 potrebbe andare bene alle 4 dai è una via di mezzo alle 16 dai alle 4 parlerà di meno non lo so sì va bene però già il fatto appunto che possa parlare poi insomma è un incontro importante quindi non sarebbe il caso di partecipare sì va bene facciamo alle 16 dai allora facciamo così per te sì grazie a tutti